Presidente Sembrano, quali sono state oggi le esigenze che il mondo dell'ingegneria e gli ingegneri in particolare hanno esposto alla platea? Una serie di proposte che abbiamo elaborato non da ora, partono dal congresso di Rimini, poi le abbiamo portate avanti al congresso di Brescia. Siamo qui dell'Assemblea Nazionale a ragionare sui temi che interessano non la categoria ma credo il Paese, quindi un rilancio delle infrastrutture, la semplificazione amministrativa, la sburocratizzazione, l'affidamento ai professionisti di compiti di sussidiare alla pubblica amministrazione per accelerare le pratiche, la realizzazione di un sistema più efficiente di rapporti nella pubblica amministrazione. Sono tutte questioni che possono realizzare degli interventi e soprattutto far ripartire la crescita con costi contenutissimi, addirittura a costo zero. Le nostre proposte hanno l'obiettivo di essere tutte sostenibili, quindi anche i piani di prevenzione sismica che abbiamo fatto sono piani che hanno un costo zero sostanzialmente per la pubblica amministrazione. Bisogna avere il coraggio di portarle avanti, di essere propositivi, di fare quella rivoluzione che abbiamo chiesto oggi, una rivoluzione della politica o fatta la politica sui temi importanti, sulla propria organizzazione, sulla capacità di incitere. Ormai questo Paese vivacchia sulle finanziarie che toccano solo aspetti economici ma non sono quelli che risolvono il problema. Si può spremere il limone ma ormai non esce più niente. Lei ha parlato di queste proposte che sono già in luce dal congresso di Rimini, quindi strada ne è stata fatta, bisogna ancora farne e a che punto siamo nel rispetto alle risposte della politica? Qualche cosa si muove, ci sono tavoli di lavoro, siamo presenti in tutti i ministeri sulle nostre proposte, però alla fine c'è sempre il tappo della burocrazia perché poi alla fine i burocrati vogliono fare le norme per la sburocratizzazione. Ovviamente questa è una contraddizione che dobbiamo vincere un po' tutti insieme, a volte anche la politica non riesce a sbloccare queste situazioni, a volte il potere della burocrazia è più forte del potere politico. Tant'è che spesse volte negli ultimi anni abbiamo visto che i grandi burocrati, i grandi direttori generali dei ministeri sono addirittura andati a fare i ministri. Ovviamente in questo caso manca proprio quel controllo che la politica deve avere sull'apparato burocratico, quella voglia di renderlo più efficiente. Quindi su questo dobbiamo innestare un processo di rinnovamento del sistema che punti all'efficienza, anche la politica deve diventare più efficiente. Ultima domanda, quali sono gli obiettivi a meteo termine degli ingegneri? L'obiettivo a meteo termine è sicuramente un piano di prevenzione, esiste il rilancio delle edilizie con incentivi, bonus che possono far ripartire il mercato immobiliare ed è fondamentale perché si sono persi 500 mila posti di lavoro in tre anni e quindi dobbiamo recuperare sicuramente questo gap gravissimo che tocca anche gli ingegneri. Quindi questi sono gli obiettivi a medio termine, una semplificazione delle norme in tema di opere pubbliche, una semplificazione delle normative in tema di edilizia, un programma di infrastrutture che sia sostenibile facendo delle scelte oculate su che cosa si può fare e che cosa non si può fare.